Ellen, Edding, salve, complimenti con la gnocca e due crambe, sembri una cicogna, posso portare il bimbo? Questa è la cazzata che dico a casa, salve, iniziamo l'intervista, parliamo un po' del suo paese, a parte il formaggio arancione, usate qualche altra droga? Il tulipane? Il tulipane, ecco, benissimo, ok, dunque restiamo sul pezzo, ho letto da qualche parte che quel formaggio lì si chiama l'airdammer, cioè porta anche bene a calpestarlo? No? No, non l'hai provato Ok, è meraviglioso, bene, molti la considerano una bomba sexy, io al posto del pisello ho un petardino, crede che potremmo fare una coppia esclusiva? Ho una mico artificiere, no, questo poi non lo sapevo, che mi viene come una bomba sexy Ah, però che c'ho un petardino al posto del pisello, sì? Sì, ok, facciamo finta che lo so Lei ha dichiarato, mi piacciono i mestieri di casa, vuol dire che scopa con piacere? Eh, in Italia Eh, c'è bisogno, ecco, perché poi la calza si sporca e con la scopa poi si scopa Bellissima Altra, filastrocchia? No, ok Dunque C'è un caldo Facciamo che io vado in Olanda in vacanza e mi innamoro di una ragazza, come faccio a dirle, tipo, me la dà in modo spiritoso? Cosa vuol dire, credito? No, dai Eh, ma in modo spiritoso, anche come si dice in olandese, in modo spiritoso Ho capito, non riesco a capire cosa si è attaccato sotto al palato Dunque, ha lavorato a me di regolo con Alessia Marcuzzi, ora Alessia è incinta Cioè, vuol toglierci una curiosità, è lei il padre? Io? Eh, no Sicura? Sicura Va bene No, perché, va bene Se lei parla, no, no, se lei parla come mangia, cosa cavolo mangia? Niente Ah, quindi non parla Eh, è vero che è lei che chiama spesso a casa mia e fa le voccine a telefono con mia moglie per farci lasciare? A lei pensa che sono io? Io penso di sì E la doveva capire però Non lo so, rimangono le tracce di formaggio nel telefono Senta, parliamo di sport Lei ha fatto 100 metri in 58 secondi Cioè, vuole vedere cosa faccio io nello stesso tempo? Eh, benissimo, lo facciamo dopo Tra i suoi hobby, le piace correre in automobile Cioè, quanto è lunga la sua auto? Come un'auto normale, ecco Correre, poi la spieghiamo Parliamo di calcio Si rende conto che in testa del campionato e da voi c'è il Vitesse, che da noi è uno yogurt magro? Ah, sì? Allora, non ha visto il calcio Lei segue il calcio o segue il yogurt? Tutte due Sempre a livelli come sono messa io Ok, parliamo un attimo ancora della sua vita privata Lei è favorevole al sesso libero o preferisce farsi incatenare? Ecco Posso rispondere anche se tu ne ho dopo No, no, no Non faccio male Riferisci farsi incatenare, ok, ok Per questo che la chiamano È sempre una persona Per questo che la chiamano bella polentona Ora, ci arriviamo alla conclusione Come dice Marzullo, si faccia una domanda Si dà una risposta e poi fuori dalle balle Abbiamo finito? Penso e spero proprio di sì Questa è la domanda e questa è la risposta È stato un piacere Cioè quando ho imparato a recitare Mi telefoni che la faccio tornare in prima fine Vabbè, allora Bel bacio E' l'olandia zona volante Grazie Vieni che andiamo a parlare di questa cosa del formaggio E intanto ti devo rispondere ancora a quelle domande Vieni tranquilla sul discorso